Una scuola moderna ed efficiente è al passo con i tempi. Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci, l'innovazione tecnica a Trapani. Conoscenze, competenze e abilità spegnibili nell'immediato futuro, in vista di un più facile inserimento nel mondo del lavoro. I nostri indirizzi, elettronica e telecomunicazione, informatica, abacusso e geotecnico minerario, unici nella provincia di Trapani. Elettrotecnica e automazione, la scuola è dotata di molti laboratori e aule speciali. Istituto Tecnico Nautico Statale Marino Torre, un'antica scuola del mare. Vi ha le reggine Elena Trapani, forma comandanti e ufficiali della marineria mercantile e direttori di macchine, con esperienza di stage fuorisede. La scuola è dotata di laboratori e aule di simulazione. Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci Trapani, telefono 0923 29498. Istituto Tecnico Nautico Statale Marino Torre, telefono 0923 21787. Dalla scuola al lavoro, il passo è breve. Dalla scuola al lavoro, il passo è breve.